c'è ragazzi ma questo michael pereira è un pazzo furioso davvero divertente mischia capoeira con balletti i movimenti alla muove delì insomma a me personalmente questo tipo di combattimento piace è vero che viene criticato perché spesso pensa più allo show e quindi rischia tanto piuttosto che al combattimento però sicuramente dal mio punto di vista non guasta io personalmente dopo questo match l'ho chiamato mister bacia mano poiché baciava la mano ha baciato la mano prima di colpire il suo avversario e poi bam gli ammollato certi schiaffoni riuscendo dall'alto a andare a bersaglio e allora ragazzi questo video introduttivo è per diciamo introdurre quello che ci aspetta in questo ultimo evento targato ufc infatti con la ufc fight night di questo fine settimana si conclude il 2020 e ci sarà una card dalla spettacolarità spettacolarità garantita michael pereira è uno dei protagonisti che sarà di fronte a williams e abbiamo michael pereira showman capoeira balletti eccetera bacia mano come ormai lo soprannominato contro williams che non va tanto per il sottile perché ricordiamo che williams nel 2020 ha fatto ben due eventi e ha totalizzato appena anzi poco meno di un minuto di combattimento infatti un incontro è finito dopo 30 secondi un altro incontro è finito dopo 27 secondi gli è bastato dare semplicemente un bel diretto destro in pieno viso a entrambi i due avversari e boom si sono spente le candeline quindi direi che a meno che williams non spenga subito le candeline al brasiliano pereira sicuramente questo incontro sarà uno di quelli che ci garantirà una certa spettacolarità velocemente i numeri da una parte da un'altra allora michael pereira brasiliano ragazzi a 27 anni alle spalle a 37 incontri purtroppo questo suo modo di combattere un pochettino fuori dalle dalle rie concentrarsi più come abbiamo già detto in passato all'aspetto calerità gli ha dato una diciamo non è stato costante nelle vittorie infatti a ben 11 sconfitte ma 24 vittorie dall'altro parte invece williams come detto prima è uno che va alla sostanza 11 vittorie su 12 match disputati fino adesso anche lui è giovane a 26 anni americano e in questo caso i bookmakers vedono leggermente favorito pereira forse per la sua maggiore esperienza ma andiamo avanti con gli altri incontri allora inizialmente era messo nella main card poi è stato spostato nei come ultimo incontro dei preliminari abbiamo anthony pettis contro alex morono ricordiamo morono è una delle vittime di williams è uno di quelli che è andato capo in 27 secondi allora questo incontro è un aspetto molto importante soprattutto per pettis perché pettis è al suo ultimo contratto in ufc e come sappiamo ricordiamolo per chi non lo dovesse sapere che è recentemente dana white ha dichiarato che entro la fine dell'anno inizio anno prossimo vuole voltire il suo roadster di atleti per mettere delle nuove leve per cambiare un pochettino quelli che sono le vecchie guardie all'interno alle ufc ora in questo caso pettis include il suo contratto quindi diciamo che una vittoria sarebbe agevolerebbe un eventuale proseguimento all'interno dell'organizzazione ufc tra l'altro pettis negli ultimi quattro incontri ha ottenuto due vittorie e due sconfitte e proviene da una vittoria contro the cowboy donald cerrone a il 9 maggio del 2020 diciamo che in questo caso alex morono è un atleta abbastanza su misura infatti bookmakers lo danno a 1 e 43 contro 2 86 di alex morono quindi diciamo che che morono sembra essere piuttosto una vittima sacrificale per far sì che pettis possa e continuare a proseguire all'interno gli usi continuiamo ancora con la card e chiaramente ho fatto una selezione di quelli che possono essere gli incontri più interessanti della serata è sicuramente non poteva mancare tra gli incontri da segnalare il come ne vente fra jose aldo contro marlon vera e allora jose aldo ricordiamolo un veterano della ufc arriva ai 34 anni con 28 vittorie 7 sconfitte ricordiamo jose aldo è stato colui che ha perso il titolo mondiale contro connor mcgregor in appena 30 secondi però proviene da tre sconfitte consecutive quindi anche lui o se aldo è un attimino una situazione probabilmente di bilico per un possibile rinnovo o proprio proseguimento all'interno della ufc le ultime tre sconfitte certo provengono con due attuali con degli atleti di alto livello di cui due attuali campioni del mondo come volkanovski e peter ian e però comunque gli ultimi tre incontri sono state delle sconfitte mentre dall'altro lato marlon vera che dire proviene da negli ultimi sette incontri ha ottenuto solo vittoria ma solo una controversa sconfitta per decisione contro gli ad on song e poi ricordiamo che nell'ultimo incontro è stato colui che ha interrotto l'ascesa e l'astro nascente di shon o malley ricordiamo con con quei low kick o meglio con quei calci diciamolo chi cal polpaccio che hanno inefficiato la gamba anteriore di mason o malley e che ha subito la sua prima sconfitta ci ha fatto rimanere un pochettino così tante che addirittura io in un video subito dopo questo incontro pensavo che sono malley si fosse infortunato in realtà è stato bravo lui a inefficiare la gamba avanti ora in questo caso diciamo che la bookmakers danno per il favorito io se aldo a 1 e 65 contro 2 40 ma secondo me non c'è tutta questa grossa differenza penso che sarà un match particolarmente equilibrato e come dire se si dovesse passare al secondo grande andare poi alla fine ai cartellini vedo favorito io se aldo quindi diciamo ecco che se io se aldo passa il primo round molto probabilmente se dovessi puntare punterei su quello che è la vittoria di io se aldo ai ai verdetti dei giudici poi passiamo all'ultimo incontro da segnalare che chiaramente il main event della serata tra wonder boy steven thompson e jeff neil allora ragazzi qui dobbiamo fare dobbiamo andare un pochettino più a fondo perché comunque allora si prevede un match in total striking thompson lo conosciamo e calci girata all'indietro belle gambe bello striking ma anche neil non è da meno andiamo a vedere quali sono i dati da una parte e dall'altra allora intanto caratteristiche fisiche pressoché uguali un metro e 82 thompson un metro 80 mil 190 190 la rich di entrambi 20 incontri svolti 15 vittorie 4 sconfitte un pareggio per thompson contro 15 incontri 13 vittorie 2 sconfitte per mille ora infatti in questo caso ragazzi bisogna dire che è lì bookmakers li danno praticamente alla pari leggerissimo favore a nei confronti di mille che viene data 186 contro 1 e 96 di thompson ma ragazzi vedremo un match dove se le daranno di santa ragione infatti considerate che nelle statistiche abbiamo un thompson che ha una media di 3.93 colpi al minuto contro 6.04 da parte di mille e 273 contro 357 di colpi assorbiti da parte di entrambi praticamente sconoscono completamente il grappling infatti abbiamo una media di takedown ogni 15 minuti di 0 e 36 contro 0 85 ed entrambi hanno una difesa davvero molto alta leggermente meno thompson che è al 78 per cento contro mille che al 92 per cento quindi ragazzi questi due fighter lavoro lavoreranno principalmente all'impiede vedremo tanta action ora in anche questo match per thompson che non combatte da dal 2019 quindi già da più da poco più di un anno per lui fondamentalmente potrebbe rappresentare l'ultima chiamata in ufc poi è chiaro che qualora dovesse vincere le cose potrebbero cambiare perché comunque thompson è quinto nel ranking però come ben sappiamo dana white la direzione non è che bata tanto al ranking ricordiamo io le romero che era alla quarta posizione è stato tranquillamente tolto di mezzo e quindi il fatto che sia all'interno del ranking non vuol dire nulla ricordiamo inoltre che però dal suo avversario nil proviene da sette vittorie consecutive la sua ultima vittima sacrificale è stato mike perry che è stato annientato dopo appena 90 secondi quindi un main event da gustarsi ragazzi ci sono altri incontri davvero interessanti all'interno della card non li elencati mai elencate lì giù voi nei commenti meno tale che chi leggerà poi potrà tranquillamente tenere sott'occhio detto questo da parte di francesco la fauci è tutto e noi ci vediamo al prossimo video vamos stone fighter tv stone fighter tv stone fighter tv stone fighter tv prendi un destro e un sinistro e forse un low kick sei sul magico schermo di stone fighter tv c'è la fauci francesco non ti perdere il film se non piace la lotta non passarci da qui stone fighter tv head e 1 in 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 Grazie a tutti